E siamo alla decima puntatina, brevissima, brevissima per buttare una cosa che da noi ancora funziona poco, ma si vedrà presto, perché sta funzionando negli Stati Uniti e noi a copiare schifezze siamo ovviamente in gamba. La schifezza, che peraltro non è una schifezza perché è declinabile a diversi livelli, a livello basilare, medio, anche elevato, è quella del personal photographer. Cos'è il personal photographer? È una rideclinazione del ritrattista o fotografo di matrimonio, a seconda delle condizioni, che però si offre non per fotografare il singolo evento o per fare il ritratto apposato, ma per seguire pezzi di vita del suo cliente più grandi, più ampi. È partito come persona che ti accompagnava in vacanza durante una settimana alle Maldive, perché, specialmente quelli un po' più facoltosi, avevano desiderio di avere una bella documentazione fotografica come potresti averla di una cerimonia, di un matrimonio, ma chiaramente non la possibilità di fare una cosa di questo genere facendola improprio, perché mentre stai facendo windsurf non riesci a fotografarti, quanto sei figo mentre fai windsurf invece. Quindi quanto sarebbe bello che ci fossero delle foto fatte come Dio comanda, come un fotografo sa fare, in condizioni dove di solito sei da solo in vacanza o con i parenti che però non sanno fotografarti altrettanto bene. Partito così, questa cosa si è evoluta e si sta evolvendo in una direzione interessante, perché in America, ad esempio, si stanno proponendo e piazzando anche pacchetti, pacchetti, come si dice, forfettari, della durata ad esempio di un anno, e per una cifra, attualmente va dai 1.000 ai 2.500 dollari all'anno, per una cifra forfettaria pattuita, il fotografo ti segue, solitamente i figli, perché sono la cosa che più volentieri si documenta man mano che cresce, nei momenti più significativi, alcune giornate di gioco in giardino, la cerimonia di una festicciola di compleanno, alcuni elementi, tracciando così una descrizione non del matrimonio, del battesimo, ma della tua vita. Ha un costo abbordabile, perché spalmato su un anno è una cosa fattibile. Ed è una linea che si sta rafforzando sempre di più a chi ha il vantaggio, per chi ha clienti privati piccoli, nel senso i normali privati, di trasformare i clienti di un giorno del matrimonio in clienti di una vita. E per chi invece mira qualche cosa di più a poter rideclinare questa cosa anche con persone relativamente facoltose, di un certo spessore economico o interesse sociale, e quindi diventando da ritrattista di buon livello a personal photographer di buon livello. Michael Jackson aveva il suo personal photographer. Bene, buon divertimento.